Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo sul quinto episodio di Call of Duty Massive Warfare per Xbox One Quindi, non posso, no, non posso notarmi, vabbè, è impossibile Guardate raga, ho sbloccato l'exo, lo, no l'ex, ho sbloccato lo zombie e l'ho fatto popo fiero con questi occhiali Troppo bar lo zombie raga Quindi facciamo subito Eeeh, non facciamo colpo, che mi facciamo un casino a me Comunque raga, in questo periodo sto sbloccando molte armi oro Mi manca solamente questa Che ho fatto Vabbè, poi questa lasciamo perdere perché è un'arma così, non è che la uso sempre Però Zombie con l'occhiali e popo fiero, mamma mia Con cecchino pure oro Oh, forse metterò pure il cappello Ok Anche l'ho caricato Side shoe Questa è la mappa del pacchetto Bellissimo Ah, tutti contro tutti, bellissimo Bellissimo Non l'ho mai provato a fare quando ho fatto un colpo Mai Perché io Faccio sempre detto match a squadra È normale, non veterano Veterano Sì, mi piace, ma non un gran che Ah, se faccio uccisione confermata a veterano mi piace un casino Però Questi no Facciamo hardscope Tutti contro tutti Mamma mia, raga Zombie popo fiero L'ingaggio autorizzato Può versi Ah Dov'era? Ah Molto come me l'ho lisciato Da dietro Vabbè Oh 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 Ecco Oh 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 baby Madonna Si vabbè C'è Ciao weather al cuore ah 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 no dove stanno dove stanno vado di immagini raga che lo prendevo ok questi stanno camperando ah se se zio mori c'è male ecco poi arrivano gli altri mi uccidano ah oh no scopo non so sta facendo di nuovo ok raga disso stiamo perdendo oh 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 spacco i culi spacco i culi nooo nooo c'è lui c'è lui c'è lui no non lo vedo non lo vedo non lo vedo vai cadi oh nooo oh beh te li sei vintima oh 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 madonna mia che palle che nascono dietro non lo vedo non lo vedo non lo vedo aspetta dove controllo il lago dove controllo il lago dove controllo il lago zona dove era aspetta che questo è quello non c'è una granata boom va a fare ancora vai forza vai forza oh liscio ah e rimane ancora in volo a me nooo 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 era 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 nooo nooo calma shot chi ha voglia di fare casino comeee ahahahah ahahahah oh nasconderti da me nooo nooo ma neanche prima o secondo o terzo non sono arrivato proprio oh però raga sta andando bene nooo 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 pro gamer nooo nooo ce n'è che sei nato lei era ucciso la 19 la 17 va cazzo ride lo crown nooo non far ridere proprio ok vediamo cosa posso fa mh mh oddio cosa potrei fare mh lo zombie popofiro tarararara tuttu madonna mia eeeh eeeh cosa potrei fare cosa potrei togliermi mh mh il cappero lo posso mettere lo zombie mh mh quanto magna medica che cazzo me devo fare stupidissima oddio vediamo chi è? spesso che subito o zombie popofiro tarararara mamma mia raga bellissimo così lo zombie troppo troppo bello di nuovo ah mh voglio provarci ma con l'altro cecchino dai con l'hardscope si so forte non so proprio forte però voglio provarci con un altro cecchino perchè questo qua non è che so proprio fortissimo un quello con il 4x come cacchi si chiama con il mirino 4x questo è troppo bello vediamo 4x si ecco mh mamma mia no tanto quanto nasciamo a sinistra via il tempo si comincia saliamo vicino ai bagni c'è la cambiamo ovviamente disibili così vado da dietro non no non l'ho preso idy l'ho preso manco non vedo più niente che è che 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 Dov'è ne vanno a registro? Oh 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 Dai sali No 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 Che casino No l'ho preso Vai E prendiamo Non si Vado c'è proprio schifo Con questi Non lo prendo Ecco a posto Dai dai Amma Ho preso però Tranquilo che vola Ah no questo ce l'ho sentito L'altro L'altro no Dove era Nascosto Oh oh L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Avvio caricatore Coprite No 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 Dai Ah no stavo morendo Puto schifo No Ragazzi Vedete L'ho preso Vabbè io quell'altro l'ho preso Allora Olè Una Sì Dai ti ho visto pure Ti sei sdraiato Ma All'insegna del clan L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso per quattro punti però non è che è data male è il terzo devo capire i controvisti che erano pure collacchioni anzi so collacchioni vabbè raga per oggi è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale bella